Adesso è dura, è arrivato un momento un po' triste Dobbiamo parlare di funerari, di funerari della televisione Questo arriva il momento in cui però bisogna anche rendere omaggio a quelle persone che hanno cercato fino alla fine di salvare, di tenere su un minimo le speranze, cioè di non staccare la spina dalla televisione Ecco quindi noi vogliamo dedicare queste canzoni a queste persone Dedichiamo queste canzoni A Maria Rita Berlatiere A D'Alda Deusani A Massimo Giletto A Bruno Benz A Maria De Filippi E soprattutto E soprattutto A un bimbo A Maria 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 No, non è noia delle voto che ti doia, non è noia della materia che ti doia. Ma stai attento a non finire, ci vuole dire nazionale, non lo hai sbagliato a te per non girare, non va. Politici, galli cedroni, cari medici a favore, politici o signori, non chieste di pionisti fidati, che non iscrivano in astinenza di celebrità. Britta! 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 Grazie